Hercule Poirot, quale onore? Allora non si intende soltanto di omicidi, anche di sedute spiritiche, al di là. Vedo anche la famosa scrittrice Ariadne Oliver, è un onore conoscerla. Ho letto tutti i suoi libri, anche l'ultimo, mi è piaciuto molto. Ah, quindi il famoso detective Hercule Poirot è stato invitato da lei. Scusatemi ma vado a salutare Rowena, la padrona di casa, che non vedo da un bel po', volevo ringraziarla per l'invito. Vabbè, tanto prima dell'inizio della seduta spiritica avremo tempo di rivederci. Allora, a dopo. Salve gente e benvenuti sul canale YouTube MaxCalifornio86. Non so se si è capito dalla intro iniziale, ma per il video di oggi ho deciso di parlarvi di Assassino a Venezia, Terzo film tratto dai libri di Agatha Christie con protagonista Hercule Poirot, interpretato ancora una volta da Kenneth Branagh. Avevo un po' di hype per questo film, avendo visto dal trailer che c'era anche una componente horror, oltre a quella del giallo che ha caratterizzato i primi due film, Assassino sull'Oriente Express e Assassino sul Nilo. E quindi da amante del genere non potevo perdermelo. Prima di andarvi a parlare della trama e di cosa mi è piaciuto e cosa no, vi parlo di alcune curiosità legate al film interpretato e diretto da Kenneth Branagh. Il palazzo nel quale si svolge gran parte del film riprende quelli tipici veneziani, ma le scene al suo interno sono state girate a Londra. Questo film, a differenza dei precedenti Assassino sull'Oriente Express e Assassino sul Nilo, si è solo ispirato al libro Poirot e la strage degli innocenti, che tra l'altro è ambientato nella campagna inglese. Ultima curiosità riguarda la data di uscita. È stato scelto il mese di settembre perché era il compleanno di Agatha Christie. Vedendo che c'era anche un po' di horror in questo terzo capitolo, molti pensavano che Kenneth Branagh decidesse di distribuire il film nella seconda metà di ottobre, nei giorni precedenti alla festa di Halloween o addirittura il 31 stesso. Comunque vi parlo di Assassino a Venezia dopo la SIGLA! Il film Vedercule Poirot che si ritira a Venezia, ormai ha abbandonato la sua professione di detective e quindi rifiuta i casi sui quali la gente gli chiede di indagare. A proteggerlo c'è Vito Portfolio, ex poliziotto, che ora fa la sua guardia del corpo. Un giorno viene a trovarlo una sua amica, la scrittrice Ariadne Oliver, che lo invita ad una seduta spiritica guidata dalla medium Joyce Reynolds. Prima un po' perplesso, poi si fa convincere dalla scrittrice. Kenneth Branagh realizza un film diverso dai primi due, che si basa più sul thriller, l'horror sovrannaturale, venendo a contatto con gli spiriti che abitano questa casa. Finora il box office, nonostante il film abbia riempito le sale, ha guadagnato un incasso totale di 73 milioni. Non era un grande risultato, visto che il budget era di 60 milioni, però visto che il film è ancora in sala, questi incassi potrebbero aumentare. Gli assassini a Venezia ho apprezzato la scelta del cast, in particolare Tina Fey che interpreta Ariadne Oliver, scrittrice e amica di Hercule Poirot. Lo stravolgimento del romanzo dal quale è tratto il film, cambiandone addirittura l'ambientazione. E infine l'aver fatto diventare questo terzo film, un thriller con venature e horror, parlando di temi come l'aldilà, il rapporto con i morti, gli spiriti. Un aspetto negativo potrebbe riguardare i fan piaccaniti di Agatha Christie che potrebbero non apprezzare questi stravolgimenti. Consiglio la visione di questo film se siete fan di Kenneth Branagh e se siete fan di Agatha Christie e quindi avete apprezzato i primi due film, Assassino sull'Oriente Express e Assassino sul Nilo. Il mio voto per questo film è un bel 7,5, quindi approvato. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanella delle notifiche se non volete perdervi nulla di quello che pubblicherò qui sul canale YouTube MaxCalifornia86. Nei commenti fatemi sapere se il film l'avete visto o no, se vi è piaciuto o no, se siete fan di Agatha Christie e quali video volete vedere sul canale nelle prossime settimane. Nei prossimi giorni contatterò qualche profilo di cinema qui sui social o qualche canale YouTube che parla di cinema e serie TV per la seconda puntata del format di live al max qualche chiacchiera. Poi su Instagram con un posto o una storia vi farò sapere se sono riuscito a contattare qualche ospite e quando verrà fatta la prossima diretta. In descrizione trovate i link ai miei profili Facebook, Instagram, Twitter, Telegram nel quale trovate il mio gruppo MaxCalifornia86 al quale potete tranquillamente iscrivervi e il mio profilo TikTok nel quale pubblico video un po' diversi però sempre a tema cinema e serie TV. Un saluto e ad un prossimo video qui sul canale YouTube MaxCalifornia86 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 Grazie a tutti.